con la busta di plastica colma di ore la mattina nasce grande gli operai attendono in tanti davanti ai cancelli entrano in fabbrica con la busta di plastica colma di ore sono ancora perduti nel sonno quando li avvolgono gli alti forni incandescenti commento l'unico modo per superare un lavoro pesante è quello di trasformarsi un essere che fa questo è un alchimista l'alchimista di tutti è il nostro intimo perché supera ciò che è fisico trasformando se stesso grazie